Sono dinanzi al carissimo Franco Nembrini e voglio chiedergli questa cosa. Un ragazzo è venuto e mi ha detto ma la mia professoressa parla sempre di Dante che era un guelfo bianco, e i guelfi bianchi, i ghibellini, l'imperatore, il papà. Tu cosa rispondi quando a scuola devi spiegare questa cosa? Dico che a me per primo importa gran poco di queste definizioni, collocazioni importanti per chi vuole approfondire, ma l'interessante col poco tempo che c'era a scuola era dire di Dante il grande pensiero spirituale, la grande alternativa, la grande proposta di vita cristiana che fa in virtù della sua esperienza. Poi nella litigiosità dell'epoca dove si scannavano tutti contro tutti continuamente fino a generare fazioni l'una contro l'altra armata, sempre definire con precisione dove Dante stesse, a parte che è difficile, ma mi sembra veramente ozioso, rivolto a dei ragazzi di oggi che credo proprio non gliene possa importare di meno di queste cose. Hanno voglia di sapere chi era quell'uomo che ha osato attraversare l'inferno, il purgatorio o il paradiso per dirci qualcosa di bello sulla vita. Questo sì gli entusiasma, per cui mi sono sempre occupato di questo. Certo. Dici che per loro è bello sapere che la litigiosità c'è sempre stata in Toscana e a Firenze in particolare. Non bisogna dirlo perché gli abbiamo passato una concezione del mondo terrificante. Vivremmo nell'epoca peggiore della storia. Io ho sempre detto che invece mi giro e il secolo scorso quello vissuto dai miei nonni dalla gente è stato un secolo di una brutalità, di una violenza, incommensurabile, imparagonabile in fondo alla pace di cui godiamo oggi. Certo c'è da goderne e non da mandare il cervello all'ammasso. Ma proprio in questo ci può aiutare Dante. E in qualche modo Dante è superiore a queste lotte fra Papato e Impero perché ne riconosceva il valore di entrambi. Cioè proprio lui supera in qualche modo questa distinzione così moderna legata alla scientificità storica ma poi capziosa. È incredibile l'operazione che fa perché mentre arrabbiatissimo con Bonifacio VIII la sua politica che è la ragione per cui lui si ritrova esune, nello stesso tempo quando parla del Papato, quindi non tanto di Bonifacio VIII quanto del Papa, dice essere la guida del gregge, la guida che vi conduce. Ne ha un rispetto, una stima, un giudizio anche teologicamente di una grandezza infinita. Così per il ruolo dell'imperatore nella teoria delle due spade, dei due poteri, con una chiarezza che gli fa guardare la terra e chiamarla quella iuola che ci fa tanto feroci. È vero, è la iuola che ci fa feroci ma può essere guardata dal punto di vista di Dio e allora guardata con responsabilità e con tenerezza insomma in questi suoi disastri. Grazie Franco e buon lavoro. A presto ancora.